ciao a tutti oggi prepareremo le polpette di merluzzo il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa ingredienti sono cuori di merluzzo pangrattato aromatizzato uno spicchio d'aglio uova parmigiano pecorino la buccia del limone un ciuffetto di prezzemolo e farina di mais diamo il via alla ricetta mettiamo all'interno del boccale il parmigiano e il pecorino e trichiamo il tutto per 10 secondi a velocità 10 adesso aggiungiamo la buccia del limone l'aglio e il prezzemolo e facciamo tritare per altri 10 secondi sempre a velocità 10 adesso aggiungiamo il pangrattato aromatizzato e azioniamo nuovamente il bimbi per altri 10 secondi a velocità 10 questo sarà il risultato adesso aggiungiamo il pesce e le uova e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 8 il composto è pronto adesso formeremo le polpettine adesso formeremo le polpettine per chi lo gradisce possiamo aromatizzarle con delle olive verdi in salamoia tagliate a pezzettini andiamo a formare le polpettine prendiamo una parte dell'impasto poi dei pezzetti di olive che mettiamo all'interno e poi le passiamo nella farina di mais e proseguiamo così per il resto dell'impasto una volta terminate le polpette adesso le cuoceremo possiamo friggerle o cuocerli in forno a 180 gradi per 30 minuti posizionandole su una teglia rivestita da carta da forno andiamo a cuocere le polpettine sono cotte andiamo a impiattare polpette di merluzzo grazie e alla prossima ricetta grazie 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 grazie